La Nisse ritorna in campo domenica dopo la lunga sosta causata dall'aumento dei casi Covid in tutta Italia e lo fa nel vecchio e glorioso impianto del Palmintelli nella speranza possa esserci un ritorno di fiamma da parte dei tifosi che avevano disertato le gare del Pian del Lago e le ultime giocate al Virciglio di Campofranco. Si passa dunque dal manto in sintetico di Campofranco alla terra battuta del Palmintelli che comunque è stata rigenerata grazie ad un intervento dell'amministrazione comunale. I biancoscudati affrontano la Parmon Vallo, una squadra che da sempre gioca su un manto in terra battuta e inevitabilmente potrà usufruire di qualche vantaggio anche se la squadra biancoscudata si allena da diversi giorni al Palmintelli. Il tecnico Angelo Bognanni alle prese per questa gara con l'ennesima emergenza. Se a centrocampo rientra Camarà che ha finito di scontare la lunga squalifica non sarà disponibile invece il capitano Gianluigi Illario che di giornate ne deve scontare altre tre anche se la società ha fatto ricorso ed aspetta l'esito. Problemi anche in difesa dove non sono disponibili Conti e Priolo che oltre al centrocampo spesso dà una mano nel reparto arretrato. In attacco invece è difficile che possa essere impiegato Retucci il quale giorni fa al Pian del Lago ha rimediato una distorsione alla caviglia che purtroppo ancora gonfia. Insomma non sarà certo una passeggiata con la squadra allenata da Marco Aprile che ha dimostrato di possedere qualità in tutti i reparti. La gara avrà inizio alle ore 15 e per l'ingresso bisognerà indossare la mascherina FPP2 ed essere muniti di Green Pass.